Il procuratore di Genova che ha gestito l'inchiesta su Todi ha detto che se fosse passata la riforma Zanattin sulle intercettazioni non sarebbe stata possibile fare l'inchiesta. Ci sono varie critiche da parte di diversi PM di tutta Italia su questa riforma dell'intercettazione. Pensate comunque di andare avanti? Io credo che i PM devono fare il loro mestiere, le leggi le fa il Parlamento.